La scelta di lasciare il mondo della finanza è stata improvvisa nella decisione, però sentivo il crescere di situazioni di disagio perché non c'era più nessuno stimolo professionale perché avevo realizzato il massimo nell'ambito dell'innovazione tecnologica. Significava continuare la carriera, però l'idea di stare sempre in giro per il mondo, guadagnare tanti soldi, raggiungere tanti successi perché non avevo dubbi di poterlo fare, e diciamo che era già un film visto, avevo già la possibilità di realizzarlo, quindi non era stimolante, per me era stimolante qualcosa di impossibile, di sfidante, che altri non riuscivano a fare, magari non riuscivano neanche ad intuire, quindi è stata quella la molla, la sfida di fare cose impossibili che mi ha fatto scegliere poi all'improvviso di lasciare tutto. Quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia siamo noi.